Mi chiamo Elena Donati e sono venuta qui allo studio Stazione Chirone per passaparola, una signora che veniva qua da lui e si trovava tanto bene. Io avevo una paura assurda, avevo sempre un male ai denti e mi ha detto vai perché sono persone veramente professionali, lavorano benissimo, ti troverai veramente bene. Infatti due giorni dopo ero già qua, avevo preso l'appuntamento. Io avevo una paura assurda e nessuno dei due interventi sono andati tutti e due benissimo, io non ho avuto male né a casa e niente, non ho sentito proprio niente, è stato tutto una giornata normale, è andato tutto benissimo. Infatti invito chiunque a non aver paura di venire perché la sofferenza non c'è qua. Ho fatto bene, ho fatto proprio bene a venire. Ringrazio quella signora che mi ha detto vai tranquilla, non pensare perché Mario tu là assolutamente non lo sentirai e così è proprio stato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.